Una 19enne sta presa e finita in manette con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari del capitano Emanuele Tamori l'hanno sorpresa mentre faceva rientro nella sua città. La ragazza infatti è stata bloccata alla discesa da un treno proveniente da Napoli. Ad insospettire i carabinieri sono stati proprio i comportamenti della 19enne, che dopo averli notati a girarsi nello scallo ferroviario ha accennato una breve fuga. Ma il suo piano non è riuscito, anzi ha provocato l'effetto contrario. I militari l'hanno immediatamente bloccata e sottoposta a controllo. Da qui la sorpresa. All'interno della borsetta, tra portafogli, cellulari e trucchi, vi era anche un panetto di hashish del peso complessivo di 100 grammi. La droga, posta sotto sequestro, una volta immessa sul mercato avrebbe fruttato circa 1.500 euro. La giovane, che probabilmente pensava di sfuggire ai controlli in quanto insospettabile, dopo le formalità di rito è stata invece sottoposta agli arresti domiciliari. Dovrà ora rispondere di detenzioni ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.